Ricercato dal 2011, ritenuto colpevole del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti è stato bloccato dai carabinieri del gruppo di Locri nello scalo romano di Fiumicino, appena sbarcato da un aereo proveniente dall'Australia. E' finita così la latitanza di Antonio Vottari, boss dell'omonima cosca attiva nel Regino, condannato nel settembre scorso alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione perché ritenuto responsabile, si legge nell'ordinanza, di aver partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitative di cocaina, operante tra Sud America, Olanda, Belgio, Germania e Italia, gestita dall'endrine di San Luca. Nei suoi confronti era stato emesso anche un mandato di cattura europeo. Al vertice dell'organizzazione criminale di cui avrebbe fatto parte il latitante, vi sarebbe Bruno Pizzata, di 57 anni, anche egli di San Luca, condannato alla pena di trent'anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di aver promosso e capeggiato varie associazioni finalizzate al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti tra il Sud America e l'Europa. Loredana Colloca per l'AC News 24